Era arrivato all'aeroporto di Venezia con un volo proveniente da Santo Domingo via Parigi. Un ferrarese di 59 anni è stato arrestato perché trasportava nel suo bagaglio oltre due chili e mezzo di cocaina. Gli uomini della Guardia di Finanza lo avevano notato al nastro con segna bagagli. Era nervoso e impaziente, ma quando la valigia è arrivata si è chiaramente visto il suo rilassamento. I finanzieri lo hanno lasciato uscire osservando le sue mosse. L'uomo è stato bloccato mentre stava per salire su un pullman. L'attenzione dei finanzieri è ricaduta immediatamente sull'insolito peso della valigia, svuotata dagli effetti personali e pertanto smontata. All'interno di un doppio fondo accuratamente predisposto nella parte rigida della valigia sono stati rinvenuti tre involucri di cellophane contenenti la cocaina, scrupolosamente sagomata per aderire perfettamente alle forme del bagaglio. Lo stupefacente immesso sul mercato avrebbe prodotto 400 mila euro. L'uomo è stato arrestato.